Saluti amici miei, questa è una mappa di Roma. Roma si trova nella regione Lazio dell'Italia centrale sul fiume Tevere, italiano, Tevere. L'originario insediamento si sviluppò su colline che si affacciavano su un guado alato dell'isola Tiberina. Unico guado naturale del fiume in questa zona. La Roma dei re fu costruita su sette colli. L'Aventino, il Celio, il Campidoglio, l'Esquilino, il Palatino, il Quirinale e il Viminale. La Roma moderna è attraversata anche da un altro fiume. L'Aniene. Che sfocia nel Tevere a nord del centro storico. Sebbene il centro cittadino si trovi a circa 24 chilometri nell'entroterra del Mar Tirreno, il territorio cittadino si estende fino alla costa. Dove si trova il quartiere sud-occidentale di Ostia. L'altitudine della parte centrale di Roma va dai 13 metri SLM, alla base del Panteon, ai 139 metri SLM, la cima del Monte Mario. Il comune di Roma si estende su una superficie complessiva di circa 1285 kmq. Comprensiva di numerose aree verdi. Mi scusi. Per favore commenta se ami Roma. Continuando. Nel corso della storia di Roma, i limiti urbani della città sono stati considerati l'area entro le mura della città. In origine erano costituite dalle mura serviane. Costruite 12 anni dopo il sacco gallico della città nel 390 a.C. Questo conteneva la maggior parte dei colli Esquilino e Celio. Così come tutti gli altri cinque. Roma superò le mura serviane. Ma non furono più costruite mura fino a quasi 700 anni dopo. Quando, nel 270 d.C., l'imperatore Aureliano iniziò a costruire le mura aureliane. Queste erano lunghe quasi 19 km. Ed erano ancora le mura che le truppe del Regno d'Italia dovettero sfondare per entrare in città nel 1870. L'area urbana della città è tagliata in due dalla sua tangenziale. Il grande raccordo anulare. G.R.A., terminato nel 1962. Che circonda il centro cittadino ad una distanza di circa 10 km. Benché al termine dell'Anello vi fosse al suo interno gran parte dell'abitato. Una delle poche eccezioni era l'ex villaggio di Ostia. Che sorge lungo la costa tirrenica. Nel frattempo sono stati costruiti quartieri che si estendono fino a 20 km oltre esso. Il comune copre un'area circa tre volte la superficie totale all'interno del raccordo ed è paragonabile per area alle intere città metropolitane di Milano e Napoli. E ad un'area sei volte quella del territorio di queste città. Comprende anche considerevoli aree di paludi abbandonate che non sono adatte né all'agricoltura né allo sviluppo urbano. Per ora è tutto. Grazie per aver ascoltato. Iscriviti per le migliori mappe e per l'amore di Roma. Arrivederci.